identità comunità e territori i piccoli comuni per il futuro dell'italia al centro del festival della soft economy e del seminario estivo organizzato dalla fondazione simbola a treia dal 2 al 6 luglio il ruolo chiave dei piccoli comuni dopo l'approvazione della legge 158 storia tradizioni e biodiversità caratteristica dei borghi italiani un patrimonio che tra l'altro è supportato anche testimoniato da numeri ricordiamoci che i piccoli comuni rappresentano circa il 70 per cento del nostro territorio nazionale e l'85 per cento di questo 70 per cento racconta in realtà di una realtà prettamente rurale cioè l'85 per cento di questi piccoli comuni sono realtà immerse nel contesto agricolo del nostro paese delle 890 mila imprese che risiedono e nascono nei piccoli comuni oltre un terzo sono imprese che si occupano di agroalimentare ma non solo il 92 per cento delle tipicità quindi delle doc delle doc delle gp del nostro patrimonio agroalimentare italiano nascono proprio qui quindi in questi piccoli spazi che in realtà racchiudono al loro interno un patrimonio diffuso di biodiversità le marche chiaramente in una circoscrizione più piccola ripercorrono o comunque ripetono quello che è un dato statistico nazionale nella nostra regione sono 163 piccoli comuni quindi rappresentano anche qui il 70 per cento del diciamo del totale numerico dei comuni occupa e copre oltre la metà della superficie della nostra regione racchiude in sé da 5 mila abitanti 37 mila imprese e nei piccoli comuni delle marche si producono 14 tipicità agroalimentari è un'idea d'italia che è legata a un'idea di un sistema un'economia a misura d'uomo in cui la bellezza la qualità le comunità i paesaggi sono ancora forti di questo sistema i piccoli comuni non sono il margine come diceva lupateni ma sono la frontiera sono una specie di concentrato di un'idea d'italia offensiva che deve recuperare fino in fondo la sua identità per battersi significa tenere assieme visione e concretezza gli amici sanno che a me piace molto la poesia una poesia indiana del 600 avanti cristo che dice non rinunciare mai a sognare che un giorno potrai volare e gareggiare tra i picchi con le aquile ma quando la gente del villaggio ti chiamerà per ricostruire il ponte distrutto dalla piena del torrente quel giorno vedi di esserci questa legge cerca di presidiare il rapporto fra la visione e la concretezza e soprattutto di presidiare un'idea ambiziosa dell'italia grazie a tutti grazie grazie